È ovvio che i soldi sono importanti, le utilità sono importanti, ma la felicità è altra cosa, perché mentre l'utilità è la proprietà della relazione tra la persona e la cosa, le cose danno utilità, la felicità è la proprietà della relazione tra persone e persone, che è il motivo per cui Aristotele diceva non si può essere felici da soli, bisogna essere almeno in due per essere felici, meglio se si è in tanti. Ecco allora che fare in modo che il lavoro dentro le imprese possa essere un luogo felicitante è un'acquisizione recente, se vogliamo una scoperta recente, che dà la possibilità al nostro Paese di contribuire a dare, non di collezioni, ma a dare messaggi e soprattutto applicazioni concrete anche al resto del mondo.